I guess I should have won I'm gonna be forever I'm never going down in phase I'm only ever sober Hola a tutti ragazzi di Vassuliuk e oggi siamo qui in questo nuovissimo video non di minecraft ma ragazzi è un video molto importante durerà poco quindi vi prego di guardarlo tutto allora vi devo dire diverse cose prima cosa ho visto grazie a voi, grazie al mine combat sono riuscito a crescere in modo notevolmente confronto ai vecchi tempi sul canale quindi sono cresciuto grazie a voi grazie alle pressioni che lasciano like un'altra cosa importante collegata a questo fatto siccome adesso appunto sono salito iscritti ho le visual diciamo stabili diciamo stabili anche se non sono ancora stabili perché ci sono dei cari purtroppo per coppa dei feed e parleremo anche di quello vi dico che ci sarà un programma che non ho inserito nel video del mine combat come detto perché no perché me ne sono dimenticato perché ho deciso di parlarne proprio in un vlog che dovevo fare importante in cui parlavo un po' di tutto quindi appunto adesso vi uscirà il programma bello in cui vi dico che lunedì mercoledì venerdì e domenica domenica tiriamo una fuori allora diciamo lunedì mercoledì e venerdì ci sarà un video o della creative o di fifa fifa 16 ovviamente la carriera allenatore che vi consiglio da andare a vedere mentre il martedì giovedì il sabato ci sarà il video sul mine combat quindi rimanete sincronizzati tutti i video all'una e mezza ecco che intanto ho cliccato a sbagliare cioè sbaglio sempre ho 346 iscritti intanto che non mi era uscito comunque scusate domenica l'ho tirata fuori perché la domenica porterò giochi diversi modalità diverse oppure porterò vlog tipo questi che anche se non è un vero e proprio vlog allora sotto avete la mia schermata dell'home del canale perché vi devo mostrare una cosa qui adesso vi apro un canale a caso per esempio quello di Rx un ragazzo conosciuto non da molto che ha un suo network mi sono unito al suo network vi spiegherò probabilmente in un altro vlog vi faccio vedere sul suo canale cosa dovete fare sul mio e anche se volete sul suo o per chi è iscritto come fare a farvi arrivare i feed praticamente questo non fa arrivare i feed al 100% però aumenta la probabilità che arrivo in i feed sulla vostra zona subscribes ossia dove avete la zona degli iscritti e appunto basta che cliccate vicino a questa rotellina vicino ai miei iscritti fate così e impostate questa stanchetta che qui non c'è quindi inviamo tutte le notifiche di questo canale fate salva e ogni cosa se ce l'avete collegato su un telefono se l'avete collegato qui se siete su youtube che andate col computer vi arriverà la notifica il feed che dice che ho caricato un video quindi vi dico di farla perché ragazzi per chi vuole rimanere attivo sul canale perché adesso vi faccio vedere un po' questo è reso conto ci sono video lasciamo stare la creative perché ragazzi c'è chi piace e c'è chi non piace ci sono video tipo eccolo qua mine combat in cui c'è un video appunto che ha 511 visual vabbè il primo era uscito dal po' che è in mine combat quindi aveva fatto boom il secondo aveva 208 visual stessa cosa l'ho caricato il giorno dopo cioè due giorni dopo quindi è ovvio che fa boom poi qui cominciano a stabilizzarsi le visite ossia tra i 170 le 138 visite dai facciamo così perché anche qui ce ne ho 139 e come avete potuto vedere già quello che ho caricato due giorni fa ha avuto solo 57 visual adesso lo so ragazzi i feed non partono nel momento giusto per quello c'è l'unica spiegazione del rifatto delle poche visual perché se una serie piace lasciate like per molti episodi ci sono stati un sacco di visual un sacco di like vuol dire che piace una serie e perciò da questo deduco che è colpa dei feed non so soprattutto anche confrontandomi con Rx anche lui ha avuto il mio stesso problema appunto dei feed perché lui aveva quasi fatto non so non vorrei spogliare quasi mille visual su un video non so addirittura forse duemila avrà fatto un botto dei visual però per colpa per colpa dei feed sono calate anche lui quindi ragazzi vi dico che è importante fare col fatto che vi ho detto prima con l'ingranaggio mettete le notifiche quindi non ho nient'altro da dirvi grazie ancora per il traguardo che stiamo raggiungendo insieme ci becchiamo alla prossima con lunedì cioè martedì perdonatemi con il video del main combat ci becchiamo alla prossima ragazzi bella